Con questo successo di Vega C l'Europa si dota di un nuovo veicolo per l'accesso allo spazio che permetterà di mettere in orbita autonomamente i più grandi programmi europei come Copernicus e anche di servire alla new space economy che permetterà a noi di Aeronespace di affrontare il mercato commerciale con più competitività e flessibilità e siamo molto fieri che questo veicolo sia stato realizzato in Italia da Avio.